Buon salve e bentornati su No Mamamazzo e soprattutto buona Pasqua a tutti, buona Pasqua 2020. Chi avrebbe mai pensato che avremmo trascorso la Pasqua dentro le nostre case in quarantena e quindi, perché no, in compagnia dei miei video? Io di sicuro non lo avrei mai pensato, come di sicuro non mi ero accorto del fatto che il giorno di Pasqua quest'anno cade a un anno esatto dall'apertura del mio canale YouTube. Sono trascorsi ben 365 giorni o 366 perché c'era il bisestile e da allora non è che ho fatto chissà quali salti in avanti, ma non mi importa, mi importa che ultimamente sto riuscendo a creare la mia piccola community di persone interessate a quello che sto dicendo, a come lo sto dicendo, persone che riescono a interfacciarsi con me da pari perché è questo che siamo e questo mi fa molto piacere. Ci sono arrivato solo ultimamente, ma spero che da qui in poi si andrà avanti su questa strada. Questo video che apre i video che vorrò far uscire oggi, tutta la giornata di Pasqua, quindi farò uscire diversi video, non solo questo video, questo è il primo che apre le danze perché parlerà di tutta la mia collezione di fumetti della libreria che per un anno avete visto alle mie spalle. Ve la farò vedere un po' più da vicino, questo anche per darvi un'idea delle basi fumettistiche che ho quando parlo di determinati argomenti, quindi di cinecomics tratti dai comics, oppure di serie tv tratti dai comics e via dicendo. Quindi quando parlo di quello che parlo lo faccio con queste basi che vedete alle mie spalle. Cominciamo subito, voglio fare il video in un unico piano sequenza, che è un modo elegante per dire che non ho assolutamente voglia di montarlo ed è per questo che in realtà non sono seduto, ma ero inginocchiato e fa malissimo. Allora, questo è il mio studio, o camera, o come volete, non so come si dice, scusate anche la ripresa un po' così tremabonda però, si fa quel che si può. Allora, cominciamo. Dovete capire, se mi tolgo anche un attimino che tanto la mia faccia la conoscete, che tutti questi quadrati fino a qua, nonostante ci sia, ecco, tutti questi quadrati fino a qua sono dell'uomo ragno. Ok. Di questi quadrati il primo quadrato è tutta la serie Ultimate, cioè Ultimate Spider-Man, che se non sapete cos'è Ultimate Spider-Man e vi interessa saperlo, fatemelo sapere che ve ne parlerò in un video magari. Comunque è la versione dell'uomo ragno ambientata in un universo alternativo ai giorni nostri, più che giorni nostri nei primi anni 2000. Una serie davvero avvincente che, appunto, cerca di far ripartire l'uomo ragno nei suoi primi anni di attività, ma allo stesso tempo di inserire tutti i personaggi, tutti gli avvenimenti più importanti che invece hanno caratterizzato l'uomo ragno classico. Quindi cerca di racchiuderli tutti in questi numeri. Sono tutti i numeri di Ultimate Spider-Man fino alla presenza di Peter Parker, perché poi nell'universo Ultimate ci sarà il secondo uomo ragno che sarà Miles Morales. È da qui che nasce Miles Morales, che poi ha avuto anche il film Spider-Man Un Nuovo Universo. Ma andiamo al piano di sotto. C'è sempre roba dell'universo Ultimate. In particolare avevo preso i primi numeri di Ultimate Fantastic Four e l'avevo fatto più per un discorso collezionistico, magari sarebbero aumentati di valore. Comunque le storie sono molto belle, non ne ho prese tantissime. Tra l'altro Reed Richards dell'universo Ultimate ha un percorso, ha una crescita come personaggio totalmente inaspettata, totalmente diversa rispetto alla sua versione classica. Vi consiglio di recuperare qualcosina di questi albi. Poi c'è Ultimate, che è la versione Ultimate degli Avengers. Questi sono i due primi numeri che sono Super Umano e Sicurezza Nazionale, che ci mostrano una squadra alle dipendenze dello S.H.I.E.L.D., come era inizialmente nel Marvel Cinematic Universe, a differenza della versione classica, che invece era tipo un'agenzia privata creata da Tony Stark. E ci fa vedere com'è molto più cinica questa realtà, questo universo Ultimate, rispetto all'universo classico. C'è anche un po' di Ultimate X-Men, perché a me comunque gli X-Men mi piacciono un sacco, mi piace il tema del diverso, della diversità, del scoprire dei poteri durante l'adolescenza che sono innati e non si sa come spiegarli. Questa metafora sul sentirsi strani durante l'adolescenza mi è sempre piaciuta molto negli X-Men. Qua invece abbiamo gli X-Men classici e la versione noir sia degli X-Men che di Wolverine. Se volete recuperare alcuni numeri noir sono molto interessanti. Se li trovi su Amazon ve li metto in descrizione, così sono menzionato anche un po' il canale, perché se voi fate gli acquisti con il link Amazon che io vi metto sotto in descrizione, dovete sapere che a voi non costa nulla di differente, ma a me arriva una percentuale. Si continua sempre con la Marvel, con tutto ciò che è Deadpool, questi numeri, è caduto colosso, mi spiace, questi numeri sono presi da, non mi ricordo se era l'inserto di Repubblica, come dice Giovanni, o dalla Gazzetta o quello che è, comunque sono tutti brossurati, cioè non sono spillati, sono spessi. Questo perché ultimamente sto cercando di prendere delle collezioni intere, degli omnibus, e non prendere più questi spillati qua, perché mi piace avere delle storie che iniziano e finiscono, e se si prendono degli spillati americani è come prendere una puntata di una telenovela che non ha né un inizio né una fine e non ho più tempo di recuperare tutte le storie come queste. Queste dovete capire che io le ho fatte nel 2001, probabilmente voi non eravate neanche nati, io avevo già 16 anni, ho iniziato nel 2001 a fare la collezione, in modo appunto costante, quindi collezione, dei fumetti, poi per carità li leggo dal 96, questo è il mio primo fumetto che ho preso dell'Uomo Ragno, l'ho preso nel 96, ma ancora non li collezionavo, però lo adoro, è uno dei miei fumetti preferiti su Uomo Ragno, penso anche per un senso di nostalgia. Questo invece è il primo fumetto dell'Uomo Ragno mai pubblicato, che ovviamente è una ristampa, è una ristampa in italiano fatta apposta e la tengo qua giusto così, questa è la prima copertina. Continuiamo con la Marvel, qui vedete anche una collezione di miei finti Lego, io li chiamo, perché sono onesto con voi. C'è chi dice che le Funko Pop costano poco, beh questi costano ancora meno e costano anche meno dei Lego originali, sono tipo Lepin o Lipu o non so come si chiamano, ma sono una versione cinese che si trova su Aliexpress dei Lego, mi piace prendere queste mini figure per avere la collezione di tutti i personaggi con pochi centesimi. Comunque, dato che vi sto parlando di fumetti principalmente, dietro si continua con la Marvel, abbiamo, ho ucciso Silver Surfer, fa niente, tanto non è ancora nell'universo cinematografico Marvel, mettiamolo qui un attimino. Abbiamo il Daredevil, c'è una serie regolare spillata di Daredevil, fino a qui, qua invece ci sono dei brossurati, ci sono tra le mie storie preferite come il Diavolo Custode, ma anche Rinascita, ultimamente ho preso Parti di un Buco, sì, Parti di un Buco, che praticamente è il seguito di Diavolo Custode, che è molto bello. Qua invece ci sono, non me lo ricordo, ah qui dietro la maschera di Iron Man, che in realtà non è una maschera, ma è il contenitore del DVD del primo Iron Man, ci sono un po' di fumetti sparsi sugli Avengers, non Ultimate, quindi sugli Avengers normali, Capitan America, Thor, come vedete non ho mai seguito tantissimo gli Avengers nei loro fumetti, c'è un po' di Civil War, li ho seguiti principalmente perché interagivano con Spider-Man, quindi io gli Avengers li leggevo attraverso i fumetti di Spider-Man, poi qualche evento maxi, come appunto Civil War, Civil War ovviamente l'ho comprato, Civil War dei fumetti ragazzi, e non il film, il film è una scazzottata tra amici, cercatevi, recuperatevi il fumetto di Civil War, se c'è l'Omnibus e lo trovo su Amazon ve lo metto sempre in descrizione, è tutta un'altra cosa, quella sì che è davvero una guerra tra supereroi. Ho detto che era un piano sequenza, scusate se vedete dei tagli, ma è perché sto cercando di prendere fiato, dato che ho parlantina ma ho anche bisogno di respirare. Si finisce con la Marvel e si continua con la DC Comics, di cui ho prevalenza Batman fondamentalmente, di cui vedete questi numeri se non sbaglio usciti con la di Agostini, ho solo i primi dieci più qualche numero recuperato alle fiere e pian pianino continuerò, poi ho i due Omnibus di Cappuccio Rosso, ho l'Omnibus della saga di Hash che è fantastico, ovviamente ho The Killing Joke, Joker, l'uomo che ride, Joker di Brian Azzarello, comprate, scusate la inquadratura che è una merda, comprate il Joker di Azzarello che è fantastico, tutto quello che ho cerco di mettervelo in descrizione, se non riesco a mettervelo in qualche modo ve lo farò, vi consiglierò dove trovarlo. Si continua invece qua con, qua abbiamo una saga che si chiama solamente Justice, che la tengo qui perché è autografata da Braithwaite, scusate la pronuncia, ed è stata disegnata principalmente da Alex Ross, che se non conoscete Alex Ross sappiate che i suoi disegni sono praticamente dei quadri, iperrealistici, sono fantastici, vi consiglio caldamente di scoprire le tavole di Alex Ross, in questa versione la Justice League e la Justice League classica, che affronta una delle sue mega battaglie. Un numero fantastico, sono sei numeri che se recuperate, ne va della vostra felicità nerda. Si continua con un Batman spillato, questo è il Batman dei New 52, dal primo al, credo 42, dove c'era una fantastica cover italiana di Batman, che richiamava la cover, la prima cover di Landog, l'alba dei morti viventi. Vediamo se lo trovo al volo senza distruggere i miei mini Lego, eccolo qua, sì. Ecco fatto. Allora, dall'1 al 43 dei New 52 ce l'ho. Questa è una copertina che è uscita solo in Italia, come vedete c'è Batman che si gira come D-Landog, non ha in mano la pistola, ma ha in mano tre Batarang, c'è una mano di uno zombie, non è legato alla storia che c'è all'interno, era solo un omaggio che ogni nazione ha fatto per Batman, e noi abbiamo fatto un omaggio con D-Landog. Dopo di questo numero, avevo smesso di prenderlo perché le storie erano un pochino scostanti, ho preso qualcosina di Rinascita, ma poca roba. Spero di recuperare Rinascita appena posso. Qua invece si va con degli autori un pochino più indipendenti, parlo del calibro di Capitan Nova, l'eroe di Novara, poi abbiamo DK, che è la versione, mi piace chiamarla la versione Ultimate di Diabolic, ma può essere considerata anche la versione PK di Diabolic, volendo. Poi abbiamo Maschera Gialla di Dado, seguitelo su Instagram, sta facendo delle vignette digitali molto divertenti, è un supereroe strampalato che trova una maschera gialla, tipo di Carnevale, che gli dà dei superpoteri, senza cambiargli la personalità, non è come The Mask, semplicemente gli dà dei superpoteri, è ambientato a Roma, è molto divertente, è molto anche fantasy, se vi piacciono i supereroi. Ho il primo numero di The Boys, che continuerò sicuramente, però devo dirvi, ho scoperto The Boys dalla serie TV, adoro la serie TV, adoro come sia molto politica, il fumetto è molto più violento, splatter un po' fine a se stesso, quindi se dovessi scegliere, preferisco la serie TV, ma ho letto solo il primo, quindi voglio andare a capire dove andrà a parare il fumetto, e poi magari li apprezzerò in equal misura, anche se sono due opere differenti. Qua c'è tutto il Millerverse, è una parola grossa, tutto Kick-Ass praticamente, quindi Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, e Kick-Ass 3, e anche Hit-Girl. Si torna al piano di sopra, avevamo finito con l'Uomo Ragno, si comincia con le Tartarughe Ninja, della IDW, di cui ho tutta la serie, più i vari crossover con Batman 1 e 2, poi c'è il crossover con i Ghostbusters, che invece ho giù sotto, insieme ai fumetti dei Ghostbusters, dato che sono pochi, ho le mie action figure, che vi farò vedere sempre oggi, sempre a Pasqua, in un video dedicato, queste sono le action figure classiche, della serie del 1987, delle Tartarughe Ninja, non sono quelle che avevo da bambino, perché le ho distrutte, queste le ho recuperate, su una pagina Facebook, molto interessante, se vi piacciono le Tartarughe Ninja, e lo scambio di giocattoli, trovate dei pezzi interessanti, a prezzi interessanti. Subito dopo, continuiamo con la zona libri, che sono pochi, perché qualcosina ho ancora, nella casa vecchia, però, qua c'è Harry Potter, nella versione ritradotta, quindi dove non c'è il platano picchiatore, ma il sale c'è schiaffeggiante, dove non c'è tasso rosso, ma c'è tasso frasso, e c'è la McGonagall, e non c'è la McGranit, ma non fa niente, ci piace così lo stesso, perché c'è la skyline, diciamo, di Hogwarts, davanti c'è la bacchetta di Python, che mi avrete visto usare, sicuramente nelle live, a tema Harry Potter, che sto facendo in queste sere, che ho fatto in queste sere, poi abbiamo un po' di codice da Vinci, qua invece c'è un libro che devo ancora leggere, che è Mastermind, pensare come Sherlock Holmes, ovviamente è un manuale, non è narrativa, sotto abbiamo Carl Ruiz Zaffon, di cui mi mancano alcuni libri, ma quelli che ho letto sono fantastici, Il Diavolo Custode invece è la versione letteraria, da cui ho preso il film, da cui ho tratto il film Quasi Amici, però non l'ho ancora finito di leggere, perché poi purtroppo ho visto prima Quasi Amici, di conseguenza non è uno di quei libri che leggi, qua c'è un po' tutta la parte che io chiamo molto sacra, quindi c'è un libro su Madre Teresa, scusate, qua c'è, vediamo, ah c'era Il Meraviglioso Mondo di Odza, qua c'è anche un libretto che ho preso a Rimini quest'anno, su Il Castello Infestato da Azzurrina, qui abbiamo, ecco, un libro su Friends, un libro su Caparezza, un libro su Ninja, un libro su come disegnare manga, un po' di libri umoristici, c'è un libro di Davide Van des Fröes, un cantante del Lago di Como, che se non conoscete, perché magari mi state seguendo da una parte lontana, dell'Italia, ve lo consiglio, qua c'è il libro di Pinocchio, di cui ho fatto il video del film di Matteo Garrone, nel periodo di dicembre, qua c'è il libro del mio caro compagno di merende, Chris Peps, con cui faccio i video recensioni, o Reinception, quindi, poi magari se trovo un link, ve lo metto così ve lo comprate, qua sotto cosa abbiamo, vediamo, cose di cani, quindi abbiamo, no, in realtà abbiamo l'arte della guerra, che non so perché sia finito qua, che, vabbè, lo metteremo qua con il libro dei Ninja, qui abbiamo il linguaggio dei cani, cose di cani vari, ecco, qua c'è proprio la parte un po' più sacra, quindi, Vangeli Apocrifi, Siddhartha di S, abbiamo la Bottega dell'Orefige, che era stato scritto da Giovanni Paolo II, qua c'è il manuale del Guerrero della Luce di Paolo Coelio, qua c'è tutto Paolo Coelio, tutto si va per dire, nel senso tutto quello che ho, c'è il Io Gesù, che non è un, una roba, non è un Vangelo, ma è un libro di narrativa, che, rivisita un attimino la figura di Gesù, e c'è un finale leggermente diverso, è molto carino, si risale e si va sul fantasy, o, dipende dai punti di vista, si continua sul fantasy, dunque qua ci sono le cronache del mondo emerso, di lì c'è Troisi, dopodiché ci sono le guerre del mondo emerso, dopodiché invece ci sono le leggende del mondo emerso, che però non ho finito, perché iniziavano a diventare un filino pesanti, già questo era una mattonata sui coglioni, questo era molto bello, questo era molto lento, ma l'ho letto tutto, qui ho abbandonato, purtroppo, qua invece c'è il nuovo libro, di lì c'è Troisi, sempre con Nihal, ma anche questi qua, francamente li devo ancora leggere, sto leggendo altro, sto leggendo principalmente fumetti, ma anche i libri che sto leggendo, sto leggendo ben altri, e ben Affleck, mettiamo un attimino a fuoco, ecco qua, Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, Orchi, di Stan Nichols, c'è una prima trilogia molto carina, e una seconda trilogia che anche lì sto finendo, sto finendo il primo tomo della seconda trilogia, quindi chiaramente non mi ha preso come la prima, però molto molto bello, se vi piacciono gli Orchi, io li adoro come personaggi, vi consiglio questa trilogia, qua ho un po' di eccezioni, ho un po' di DVD nella libreria, qua c'è tutta la saga di Buffy, perché ho tutta la saga di Buffy in libreria e non con i DVD, adesso ve lo spiego, qui sotto c'è Angel, che è lo spin-off di Buffy, ambientato in contemporanea dalla quarta stagione di Buffy in poi, e qui sotto abbiamo il prosseguo fumettistico di queste due serie, quindi abbiamo la stagione, innanzitutto c'è tutto Angel After the Fall in inglese e in italiano, fin dove sono arrivati, però purtroppo sono stati interrotti dalla IDW, purtroppo sono stati interrotti in Italia, quindi dovrò cercare qualche omnibus in inglese e recuperare, finire la collezione. Qui invece ho tutta l'ottava stagione ufficiale di Buffy, tutta la nona stagione ufficiale di Buffy, che io ho messo in ordine sparso, perché si leggono così, insieme allo spin-off nuovo di Angel and Faith, quindi si legge il primo, il primo, il secondo, il secondo, il terzo, il terzo, c'è uno speciale di Willow che è ambientato qua in mezzo, e si continua così, c'è uno speciale su Spike, il quarto, il quarto, il quinto, il quinto, eccetera, eccetera. Qua invece c'è la decima stagione di Buffy a fumetti ufficiale, che purtroppo non è ancora arrivata in Italia, ma me la sono comprata comunque in inglese, questo particolare numero, perché così me lo sono fatto autografare da Nicholas Brandon, ovvero l'attore che ha interpretato Xander Harris. si continua di qua, abbiamo, scusate, un po' di tecnologia che uso per il canale, che era un po' di softbox, abbiamo l'Omnibus, numero 2 dei Ghostbusters, della EDW, Massa Hysteria, che sembra una ghost trap, sembra una trappola per fantasmi, è un fantastico numero, ho anche il primo, perché non è qui? perché mi hanno chiesto di recensirlo, quindi lo sto rileggendo, perché ecco, piccola postiglia, sono in inglese, non ci sono in italiano questi, li ho presi per disperazione, perché in Italia non stavano uscendo i fumetti della EDW, o dei Ghostbusters, ora stanno uscendo molto lentamente, inspillati, ma sono felice così, perché questo brossurato, anzi questo Omnibus, è una bomba. qua il crossover di cui parlavo prima, Teenage Mutant Ninja Turtles e Ghostbusters, qua c'è un Ghostbusters che l'ho trovato, non so a cosa appartenga, è particolare, è della Tokio Pop, ed è in bianco e nero, si legge all'italiana, però non so dirvi se ha un sequel o che cosa, comunque è molto carino. Si prosegue con PK, di cui ho questi due fantastici quadratoni, qua la serie regolare che ho preso da bambino, tra il 98, 99 e 2000, qua invece quello che ho recuperato con la gazzetta, se non sbaglio, non ricordo, no, sì, con la gazzetta dello Sport, c'era una ristampa, ho recuperato almeno qualche numero in un bellissimo formato, l'unica cosa è che il formato americano che c'era in questa versione, con le pagine lucide, qua non è più stato riproposto, quindi si è un po' persa la magia dell'avere un PK come supereroe americano. Però è stato il primo supereroe che ho letto in modo continuativo, quindi qua c'è stato un mio ritorno all'amore per i fumetti. Ringrazio molto il mio amico Pietro per avermi fatto entrare in questo magico mondo di PK. Qua invece ci sono i pochissimi manga che ho, perché come sapete io leggo i fumetti occidentali, italiani compresi, non vado più a est dell'Italia purtroppo, però appunto ognuno ha le sue passioni. Gli unici manga che ho sono Dragon Ball a prevalenza, non tutti nemmeno perché comunque preferisco l'anime, perché fanno botte tutto il tempo, quindi vederlo su figure statiche a me non piace molto. Ho preso Vita di Yamcha all'ultimo look, questo è un One Piece che mi hanno regalato, qua c'è Dragon Ball in giapponese che mi hanno portato dal Giappone, qui c'è Extrat di Caverna di Platone di cui ho fatto la recensione, che magari ve la metto qui in alto da qualche parte, vi metto la recensione. E poi si continua e si conclude ormai con tutto ciò che ho di D-Landog, che ho di D-Landog, questi sono tutti i colori della paura, questo è il crossover con Morgan Lost, qua c'è D-Landog e Batman, qua c'è il Color Fest, qui ci sono gli Old Boy o il Maxi D-Landog, qua invece c'è la serie regolare, la serie in continuity, quindi c'è il nuovo corso dopo l'Apocalisse, il numero 401, 2, 3, qua invece c'è tutto il vecchio corso, c'è la saga della meteora e c'è qualche numero che ho cercato, non sono tutti i numeri perché non voglio avere la collezione completa, voglio avere i numeri che hanno segnato delle tappe importanti in D-Landog, quindi ho preso quelli che ritenevo opportuni, poi sicuramente devo integrarli con altri numeri che non ho ancora. Ok, qua ci sono tutti i primi numeri, c'è qualche speciale, c'è la quinta stagione, c'è Sette anime dannate, che è stato un fantastico regalo di compleanno, scusate, di Natale. Qui sotto scendiamo un attimino, la graphic novel 300, di Frank Miller, e qua ho i fantastici numeri, che sono a prevalenza francese, della collana Weird Tales, dell'editoriale Cosmo. Ho preso quelli che parlano di Sherlock Holmes, ve li consiglio tantissimo, se vi piace il personaggio, qua lo interpretano in una chiave sempre vittoriana, ma con un po' di fantasy, con un po' di paranormale, che non guasta mai. Qui c'è un pochino di Nimrod, che era un fumetto italiano, di cui ho preso qualche numero, che è partito molto bene, però non mi ha preso particolarmente. E qua c'è il buon Samo Stern, che sto recensendo numero per numero, in questo periodo, proprio per, perché è una serie nuova, ed è molto accattivante. E niente, poi qua un po' di miei giocattoli, magari se volete farò, un Toys and Unboxing, anche se ve li sto già mostrando così, qua ci sono, questi sono giochi che ho fatto io, questi sono, dei Lego che devo lavorare, su cui devo lavorare, che voglio modificare, e voglio customizzarli, come dicono le persone cool. E questo qui, è il vecchio furgone delle Tartarughe Ninja, sempre della serie 1987, che come vedete, è in pessimo stato, ed è qui in basso, perché lo devo ristrutturare, non appena avrò tempo e materiali. Si sale sopra la libreria, vi faccio fare una carrellata, di quello che penso vedrete, in video specializzati, sul Toys and Unboxing, su Tartarughe Ninja, e Ghostbusters, e su, invece, su Batman, di cui avete già visto, un video di Toys and Unboxing, in passato, magari ve lo metto sempre, qua in alto, o in descrizione, così, ve li andate a recuperare, e questo, ragazzi, è tutta, la mia libreria. Bene, so che è stato un video, un po' traballante, è stato un video, magari un po' noioso, per alcuni, l'ho fatto proprio, per i pochissimi aficionados, che si chiedono, che cosa ho alle mie spalle, quindi vi ho dato un'infarinatura, dei gruppi di quadratoni, che ci sono alle mie spalle, poi se volete, magari, che approfondisco un po' di più, se volete che approfondisco, su delle saghe specifiche, nel senso che ve li faccio vedere meglio, in modo più aperto, magari faccio dei video, dedicati, col tempo, magari lo facciamo per l'anno prossimo, se sarà ancora su, su YouTube, anche tra un anno, si può fare, tanto, non penso di aggiornare, tantissimo, questa libreria, perché appunto, ho molte cose da leggere, quindi non la sto rifornendo, rifoltendo tantissimo, quindi l'anno prossimo, sarà ancora, praticamente, la stessa, però magari ve la faccio vedere, in modo più approfondito, se fate i bravi. Con questo è tutto, io penso che se state guardando questo video, è perché siete già iscritti al canale, se siete curiosi di aver visto la mia libreria, ma se non lo foste, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace al video, commentate con quello che avete voi, nella vostra libreria, quello che vi piace di più, di quello che avete letto, a livello di fumetti, se volete dei consigli, su cosa leggere, per iniziare a leggere fumetti, però dovete anche dirmi, cosa vi piace, perché non vi leggo nella mente, quindi datemi qualche dritta, su cosa vi piace, magari a livello di film, e io vi suggerisco, nel mio piccolo dei fumetti. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto, ma, vi ricordo che oggi, per l'anniversario, i video, usciranno, a oltranza, quindi ci sarà un altro video, a brevissimo, restate sintonizzati, attivate, proprio oggi, la campanella delle notifiche, se volete essere tempestati, di notifiche, sui prossimi video, in uscita. Arrivedorci, e ancora, buona Pasqua.